Siamo collegati con casa citronello anche questa puntata che bello che bello signora santina signora santina che a telefono disturbo aspetta Antonietta c'è Omar ciao che è salve disturbo quasi come quasi stiamo parlando con la mia amica Antonietta ah è con Antonietta sempre al telefono sei ma la vuoi smettere di stare al telefono vieni qua Antonietta eh sì ma quello sembra che è buono che è chiara zitta la sai stare stai zitta stai zitta stai zitta non è nessuno solo con Antonietta solo con Antonietta parla sì ci conta tutto l'ora e col dottore dottore Antonietta dottore Antonietta eh vabbè 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 non parliamo più non parliamo più per cosa non mi fai parlare è sempre il telefono con Antonietta sì sì accettate la televisione guardate la televisione eh Omar scusami un attimo sempre che parlo al telefono io sono sono passato al secondo luogo no il secondo piano si dice il secondo piano a luogo il secondo piano sì 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 che significato io sono il secondo piano mi chiediamo sempre perché non vuole il telefono giornale vuole una politica vuole come si chiama Matrix tutte cose eh queste cose questi thriller io non le voglio io mi piace ma che thriller che c'entra sì vabbè come si chiamano a me piace mi piace vabbè altro genere di cose ma chiude la telefonata così ci colleghiamo bene parliamo eh bene ascolta Antonietta io ti devo lasciare perché no 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 non dica certe cose che lo sento puoi venire qua sembra a telefono con Antonietta non gridi non gridi sta parlando a telefono ciao 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 ci sentiamo a presto ciao 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 ma finalmente sei tornato a 7 quale che io voglio io voglio vedere il telegiornale oppure voglio vedermi Matrix 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 vabbè sì eh oppure la porta con la porta porta a porta sì porta a porta e porta a porta mi piace a me eh ma non litigate anche sulla trasmissione che dovete guardare per piacere ma ho finito di parlare con Antonietta io quando parlo con Antonietta tu non mi devi disturbare perché abbiamo le nostre cose abbiamo le nostre cose e quando parliamo è sempre che brondole brondole lo capisci lo capisci eh lo capisci ah Omar eeeh poverina sì ma se io sto parlando con Antonietta non deve interferire non deve interferire eh sì vabbè magari le voleva dire qualcosa eh sì no volevo dire che come ci piacciono i programmi ci piacciono i programmi telegiornali sempre queste cose brutte telegiornale e porta a porta ah ho capito la Matrix guarda tutti questi programmi sì eh e invece lei cosa vuol guardare? eh a me piace Grande Fratello ah che bello che bello Grande Fratello che bel b***o no non dica queste cose no no ho visto che stava preparando per fare la battutina eh poi mi piace eh Jerry Scotti Jerry Scotti ah sì 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 ho capito lei preferisce questo genere di cose no? sì sì e poi mi piace ma tipo c'è posta per te lo guarda lei? eh c'è posta per te ah si c'è posta per te lo guarda perché poi mi 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 questi programmi mi appassionano sì ma non è che sono programmi proprio eh che meglio quelli che guarda suo marito scusi no ma sono programmi che ti fanno commuovere io 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 guardo io ogni tanto anzi anzi devo cercare che fa si commuove? che ricerca? io faccio un faccioletto ma beautiful lo guarda signora faccio letto perché io lo devo tenere a portata di mano perché mi faccio le lacrime mi faccio le lacrime stavo dicendo levi quella mano da là perché e che fa? si emoziona soltanto a parlare di c'è posta per te di queste cose sì c'è amici amici ho capito ho capito lei è una di quelle che quando vede litigi in tv si emoziona piange è una di quelle lei eh io già mi faccio lasciare come amaretto pure che ci vogliono quelle di là quindi litiga a casa con suo marito per di più si guarda i litigi in tv no ma quelli sono camuffati io non ci credo non ci credo però mi piace pensa che siano finte quelle cose quelli litigi che è? c'è nervosismo c'è nervosismo sì perché quando vedo questi programmi mi metto che fa? ecco si è sequentata ora si è sequentata perché ora si deve rilassare e allora mi tocca ma io poi quando vedo questi programmi che non mi appassionano mi appisolo sì mi appisolo mi appisolo e mi approndolo che sono i sette nani? ecco i sette nani sì perché mi approndolo e rungolo sì a lei rungolo perché mi metto a rungoleare e perché mi viene il sonno e si mette a dormire pure e mi mette a dormire non riesco non riesco a vedere queste b*****e di grande fratella no mi piace vi lascio guardate pure la tv ciao vedi tocca che ti vuoi sentire ti senti che io mi appuso santina chi c'è? ciao eh sempre tu eh vedo che scusami vedo che stanno per sei una chiave che sei una chiave ma a che c'entra? vabbè non lo so non lo so io ti voglio bene perché ho stato l'occurusia mia ti stimo veramente ma certe volte non lo so sei sempre in stato mi 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 vuole più bene a me che a Giacomino? no 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 io di figlio a te è amore di figlio ah ho capito amore amore a prima vista quello è amore a prima vista è amore quello è amore sì ma anche se brontola sempre è brontola di Ciceri no brontola ho detto io brontola è brontola di Ciceri ma vabbè ok sì qual è il discorso di oggi di stasera? volevo passare una serata tranquilla tranquilla con il muro con il muro vabbè con il muro con il muro lo mette il portale e l'aiu qua ho capito sì ma che succede? c'aveva 10.000 telecomando ma scusa se no ci dobbiamo accolturare mi piacciono i miei programmi serie che c'entra questo è il grande fratello questo porta per te porta per me la busta la cartolina ma che no no sei attesto devi darmi un telecomando me lo dai che cosa vuoi? il telecomando vuoi? tieni qua uno tieni sì non è questo questo telecomando no ti piace guarda tieni 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 mi stai dando sì non è questo questo telecomando non è buono ma quale telecomando vuole? ma quanti ne ali? tieni questo qua telecomando non è buono mi stai dando no l'ultimo rimasto tieni l'ultimo l'ultimo ecco l'ultimo era l'ultimo finalmente certo tutti gli ultimi non è non è nemmeno ho capito allora stasera si guarda cosa dice lei vero? sì stasera mi devo divertire no no mi devo divertire con questi programmi che fanno piangere sì io mi rilasso mi rilasso mi commuovo mi rilasso mi viene da piangere penso al mio figlio del Belgio a Calogerino che a Vassacro non si vede perché non è più venuto non è più tornato? non è più tornato è disoccupato a vita là ah rimane là disoccupato sì è sciomaggiato è sciomaggiato va bene e mi guardo queste cose guardi guardi pure accenda pure la tv faccia quello che vuole però dico io la saluto va bene prima che lei cominciate a guardare a litigare io vado via no no non voglio litigare ora si mette a ruzzare che fa? io guardo ancora il grande fratello oppure mi vedo comunque si dice russa oppure mi vedo poi c'è per te e russa tu sei mio figlio ho capito vabbè allora la saluto vabbè non c'è bisogno di fare l'imitazione di suo marito dai sì perché è una favola è una favola vabbè accenda pure vabbè io voglio salutarvi guardate buona serata guardate la tv ciao ciao a casa citronello salutiamo Giacomino e Santina che bellissima serata io sono particolarmente contento che bellissima serata e basta che cos'è che vuoi no basta finalmente ti sei ricampato eh rifacciamo finalmente ti sei ricampato si è strappato il giornale poi mi piace per esempio i beautiful ah tutti i programmi apri la porta apri la porta mi piace porta a porta